Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano Siamo qui alla Mezzia in compagnia di Antonio Saffioti che è vicepresidente della FISH Calabria e che l'8 settembre, proprio fra qualche giorno terrà un seminario sull'affettività delle persone disabili Io gli chiedo innanzitutto di darci informazioni su come mai ha deciso di fare questo convegno ma soprattutto l'importanza di un convegno del genere in un luogo come la Calabria che molte volte è arretrato su tante cose figuriamoci su un tema così dibattuto e delicato come questo Calabria. Ciò che mi ha spinto a intraprendere questo percorso organizzativo che è un'esigenza personale che ho è quella di liberare la sessualità mia e delle altre persone che ha una disabilità fisica come la mia non può assolvere da solo le proprie pulsioni sessuali quindi sento proprio il bisogno di avere anche in Italia una figura che si occupi di questo con questo non voglio dire che sia una soluzione per tutte le disabilità ma per il mio caso sarebbe cura delle soluzioni poi ci sono tutti i problemi etici legati invece alle disabilità mentali che con Calabria devono essere sviscerate e affrontate pure Antonio io quello che pensavo tra l'altro l'ho pure un po' verificato facendo delle ricerche su internet molte persone pensano al disabile come una persona sessuata quindi che non ha bisogno se non quello appunto di essere nutrita di essere vestita magari di essere istruita ma non mari dell'affettività quindi anche della sessualità in molti paesi europei ancora l'Italia non si è dotata di una legge sulle assistenze sessuali ci sono invece da 30 anni addirittura come in Olanda persone che lo fanno come lavoro ma non è equiparata alla prostituzione perché molti fanno come dicevi tu prima per ragioni etiche un paragone prostituzione assistente sessuale non è così? No, non è assolutamente così perché nell'assistenza sessuale che anzitutto non si ha il rapporto completo ma soltanto una parte del rapporto si ha consiste proprio nel soddisfare queste esigenze basta non si deve confondere il tutto con le prostituzioni con l'amore che sono altre cose tutte e due poi volevo farti un'altra domanda in Italia i disabili sono 13 milioni il 50% di questi disabili purtroppo non lavorano ma perché fondamentalmente la disabilità è una disabilità che mette in condizione la persona disabile di non lavorare non perché non ci siano le condizioni ma proprio perché in Italia mancano proprio le strutture che mettano un disabile una persona ad esempio non lo so nelle tue condizioni ma anche una persona non vedente anche una persona che abbia altri diciamo altri tipi di handicap a non lavorare perché non c'è proprio una presa di coscienza sul disabile in quanto parte produttiva integrante del sistema Italia un'opinione pubblica purtroppo che il disabile è una persona che non deve lavorare che non deve studiare che non deve fare sesso che è soprattutto un problema mentale poi viene pure l'aspetto economico che molto spesso è vista come un costo la persona con disabilità come pure l'anziale meno come una risorsa invece che è una risorsa soprattutto economica pure la persona con disabilità perché innanzitutto è una persona che ha bisogno di assistenza in tutto quindi creerebbe pure dei posti di lavoro che ci fossero che i servizi adatti per esempio una persona come me che avrebbe bisogno per avere l'assistenza completa di minimo due o tre persone che gli inciderebbero intorno e questo crea economia 8 settembre 2017 ore 16.30 Grandotella Mezzia l'affettività delle persone con disabilità un seminario ideato dalla Fischi Calabria che da manifesto per parlare di questo tema che calzù della Mezzia in Calabria è un tabù però noi vogliamo romperlo che liberare l'amore libera l'amore vieni anche tu l'8 settembre 2017 alle ore 16.30 al Grandotella Mezzia in Calabria